Fabrizio Corona. La drammatica notizia giunta in redazione pochi minuti fa. Ricoverato d'urgenza. I fan sconvolti. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Fabrizio Corona. Celebre personaggio italiano. È stato ricoverato d'urgenza al San Raffaele di Milano dopo un'esplosione cutanea che lo ha profondamente preoccupato. La sua visita al pronto soccorso è stata motivata da timori di uno shock anafilattico. Dal suo letto d'ospedale, Corona ha condiviso un messaggio toccante dichiarando. Non posso morire così. Non è la fine che merito. Nonostante una serie di accertamenti medici, non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti sulla sua condizione. Alimentando l'ansia tra i suoi numerosi fan. L'assenza di notizie ufficiali ha lasciato tutti in sospeso. Suscitando una crescente preoccupazione tra coloro che seguono la sua storia. La mancanza di comunicazioni dirette da parte sua ha intensificato l'attesa per conoscere l'esito della sua situazione. Al momento, l'intera nazione attende con trepidazione ulteriori informazioni sulla salute di Fabrizio Corona. Sperando che presto ci siano notizie positive e che possa superare questo momento difficile. La sua vicenda ha colto di sorpresa i fan. Che ora si stringono virtualmente attorno a lui. Sperando che presto possano ricevere rassicurazioni sul suo stato di salute. La situazione rimane fluida. E l'Italia resta in attesa di aggiornamenti da parte dell'ospedale e del team medico che lo sta assistendo. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.